Ciao, ma che mangiare stasera? Ti ho detto prima, uova in padella. Però queste uova... Controlla se c'è qualcosa altro. Ciao a tutti. Come vedete stiamo di nuovo tutti insieme. Volevamo semplicemente ringraziarvi per tutti i commenti che ci avete lasciato. Un bel allenamento oggi. Ragazzi, ma è finita la birra. Bene, dai, perché il 4 maggio voglio vedere Katia. Ma non ti vedevi con Brigitte? Poi buscano sempre a prendere una pizza sul giastito, eh? Però insomma, hai ragione. Oh mio, te... Tante persone non ricordavano neanche di averle con le mie amiche. Sì, sicuramente il video. E niente, quindi grazie di tutto. Ora si mangia? Io ho fame. Ah, un problema c'è. Andiamo subito a comprarlo. Almeno usciamo. Mancia piatta per poi... Ma figurati! Vedi qualcosa. Vabbè, per stasera abbiamo del vino. Ah, dai! Eh... Non puoi pensare solo a mangiare... Eh... Ah, sì, oggi potete fare in tesi. Oh, sono un po' di Leova. Dai, non farei così. No, no, prego. Anzi, mi faccio sparire. Non fare così. Comunque, non portare sfiga. Aspettiamo di sentire l'esito. Ma non l'avete capito, ha detto solo i congiunti. E chi sono i congiunti? Adesso possiamo vedere l'esito. Adesso possiamo vedere l'esito di uscina per favore. Ciao, io non guardo. Qualcun amici dopo l'innesto non si è già congiunti. Non ho più fatto altri video e non ne farò altri perché qualcuno ha veramente pensato che io avessi altri due fratelli. E... Tra queste persone ci sono anche delle ex, delle amiche che hanno addirittura messo in dubbio che io mi fossi scambiato in altre occasioni con i miei fratelli gemelli. Insomma, ho dovuto sbagliare tutta la storia. E questo mi ha ferito, cioè mi ha fatto veramente male. Quindi, non evitare altri problemi del genere, ti comunico che io sono l'originale e che non ci sono altri me. Ecco, state tranquilli. Ne basta uno. Ciao a tutti. Fro, prendi un po' di birra per tutti. Per Matt Spritz. Questi vengono definiti... Aspettate che c'è un telefono che squilla, grazie. Pronto? Beppe, ciao. Francesco sono. Sì. Eh, scusa se ti interroppo in questi attimi molto importanti. Però ti volevo ricordare che noi vorremmo uscire in moto. Eh, sì. Sì, ma così il sabato e la domenica, arrivare al lago, tornare indietro, abbiamo il casco, i guanti, tutto a posto. L'assicurazione, il bollo, tutto a posto. Eh sì, eh dai. Me lo prometto. Eh. Io me lo segno, eh. Ti richiamo domani mattina. Va bene, va bene. Vabbè, ciao. Ciao, 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 ciao.